Una struttura inaccessibile e non inclusiva per le persone disabili, un edificio del tutto inadeguato a persone costrette a muoversi su una carrozzella, quello in cui è stato trasferito da pochi mesi l'ufficio delle politiche sociali del Comune dell'Aquila in via Aldomoro. Ufficio al terzo piano, porte troppo piccole, mancanza di informazioni in codice Braille, ascensore non a norma, scale, corridoi strettissimi, in cui è difficile muoversi anche per le persone che non hanno una disabilità. La denuncia viene da Massimo Prospero Cocco e Adriano Perrotti, rispettivamente presidente del coordinamento dell'Associazione Disabili L'Aquila e referente della società italiana Disability Manager, che chiedono al sindaco Pierluigi Biondi, al Comune dell'Aquila, di scegliere una sede idonea a chi non è in grado di muoversi autonomamente. Un luogo pubblico come questo, la stessa strada delle politiche sociali, che non è accessibile alle persone in disabilità, barriere architettoniche, l'ingresso è fatto benissimo, c'è lo scivolo, c'è il parcheggio disabili, ma quando giunge all'interno dell'edificio non è accessibile. Per cui qui manca l'assenza dell'Universal Design, in cui c'è tutta la progettazione dall'ingresso all'ufficio accessibile. Che problema hai riscontrato entrando qui dentro? Il primo problema è, a parte le porte strette per arrivare all'ascensore, il problema grosso è l'ascensore per regarsi al primo piano dell'assessorato delle politiche sociali, che non è accessibile, la mia carrozzina non entra all'interno dell'ascensore. Per cui sono costretto a chiedere un favore a qualcuno che salga sopra, chiama l'impiegata, l'impiegata è gentilissima, ci mancherebbe, scende e ci dà una mano. Critico il referente della società italiana dei disability manager Perrotti. Io sono un disability manager e il disability manager che è stato nominato avrebbe dovuto verificarla questa cosa, prima di poter trasferire l'assessorato qua. Sì, questa è una cosa, una pecca che c'ha sicuramente sia il sindaco, sia l'assessore e sia il consigliere che è delegato al sindaco per appunto suggerirgli le cose che vanno fatte per le persone con disabilità.